Dominic Faik, 8 e 31 minuti, giovedì 18 gennaio, ultima mezz'ora di trasmissione e lo facciamo insieme a un graditissimo ospite che ci parlerà di un tema davvero molto interessante e di un libro che lui ha scritto per spiegare meglio questo tema. Diamo il benvenuto a Mimmo Pesce, buongiorno Mimmo! Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Grazie. Radio ascoltatori, non solo. Eh sì sì, ma poi Mimmo è un casino, radio ascoltatori, ma poi c'è chi ci ascolta dal web, e chi ci ascolta dall'app e chi ci rivede dopo su YouTube, quindi buongiorno a tutto il mondo, puoi dire così, che intanto ci ascoltano. Allora, Mimmo Pesce lo conoscete, spesso e volentieri mi ha sentito parlare di calcio, grande appassionato di calcio, super tifoso dell'Inter, giusto? Uè, 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 cominciamo prima madina. Grande super tifoso del Napoli, porta avanti appunto i colori azzurri, i partenopei, un ambasciatore, in un certo senso, giusto, ambasciatore del Napoli nel mondo, va bene, anzi qui su da noi, crucchi che non capiamo niente di calcio, giusto? Lei è crucchi, polentoni, adesso crucchi no, polentoni. Ma oggi invece parliamo di una tua opera letteraria, perché? Perché tu hai una storia personale, familiare, che ti contraddistingue, che ti porti dietro ormai da 27 anni e che hai voluto a un certo punto raccontare, perché hai detto se la condivido forse posso anche aiutare gli altri a capire meglio la propria situazione, giusto? Parliamo di autismi. Sì, esattamente, in effetti è proprio così, nel senso che, beh oddio, proprio così, io non è che volevo scrivere un libro, nel senso che non nasco autore di libri, diciamo che sono stato sollecitato a farlo e una cosa a cui non avevo mai pensato, e ho detto ma perché no, ma perché no, non mettere per iscritto quella che è stata l'esperienza che ho avuto fino a questo momento di un viaggio che ho fatto insieme a questo ragazzo che si chiama Tommaso, che è mio figlio, e quindi ho trascritto quello che è successo in questi 27 anni di percorso fatto appunto insieme a Tommy. Mio figlio è uno sgusciato, questo è il titolo del libro. Che cosa significa appunto questo titolo così particolare? Beh, può sembrare particolare, poi in effetti non lo è, nel senso che, mi spiego meglio, più di 15 anni fa circa, con mia moglie abbiamo fatto partire un progetto che si chiama appunto Progetto di Sgusciati, legato a un'associazione che già esisteva, che era una Onlus, si chiama la tenda Olus appunto di Novate Milanese, e per cui è venuto semplice poi chiamarle, cioè mettere un titolo di questo genere, perché mio figlio di fatto era un sgusciato, perché è cresciuto all'interno di questo progetto, appunto Progetto di Sgusciati. Ecco, perché sgusciano questi ragazzi, cos'è che… Ma sai, perché si chiama Progetto di Sgusciati è molto semplice, nel senso che, o meno per lo meno, è semplice per chi vive questa condizione, un po' meno per chi non la vive e quindi va spiegato, perché sostanzialmente questi bambini, questi ragazzi, amano stare all'interno di questo guscio virtuale, nel quale loro stanno benissimo, perché questo guscio gli permette di isolarsi da tutto e da tutti, che un po' è la prerogativa, è una delle tante prerogative dell'autismo, cioè il fatto che questi bambini preferirebbero vivere dentro una bolla, preferirebbero vivere all'interno di un guscio, per non avere tutti quegli stimoli esterni, che ovviamente ci sono, e quindi il nostro lavoro, come associazione, è proprio di sgusciarli, cioè tirarli fuori da questo guscio. Ecco, che nasce un po' il tutto. Ecco, quell'operazione lì, credo, è un'operazione difficilissima, quella di sgusciare appunto questi ragazzi e queste ragazze, soprattutto perché poi l'autismo non esiste, l'autismo, ci sono gli autismi, cioè ognuno è una storia a sé, giusto? Esattamente, esattamente, così, io quando mi chiamano per presentare il libro, in un anno, permettimi di dire, ho fatto veramente tante, tante presentazioni, perché in un anno ne ho fatte quattro, che non sono poche, per uno che scrive un libro, quattro presentazioni in un anno, sono oggettivamente poche. e devo dire che questo aspetto è un aspetto interessante, questo aspetto è sicuramente un aspetto interessante. Chiarissimo. Allora, io ti chiedo di rimanere un attimo qui ancora con noi, ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo ancora con te, per capire, soprattutto, ti metto Francesca Michelin, con Solite Chiacchere, andiamo via, belli leggeri, e ci facciamo una bella cantata insieme alla Michelin, va bene. Andiamo sulla musica lirica, bravi, bravi. Andiamo con la Michelin e poi torniamo ancora a parlare con Mimmo Pesce, Francesca Michelin, Solite Chiacchere. Francesca Michelin, Solite Chiacchere, 8 e 39 minuti, siamo ancora qui con Mimmo Pesce parlare appunto del suo libro, Mio figlio non sgusciato, e parlare più in generale di autismo, anzi Mimmo, che cosa secondo te sbagliamo quando parliamo di autismo, quali sono gli errori in cui si incappa, anche in maniera buona, diciamo, che magari bisognerebbe migliorare un po' nel parlare di questo tema? Ma io posso dare il mio parere su questa cosa, che ovviamente ognuno può avere una sua idea, il rischio è quello di standardizzare un po' l'autismo in un'unica visione, mentre invece, lo dicevamo prima della canzone di Francesca Michelin, invece l'autismo ha tante sfaccettature, veramente, infatti si chiama spettro dell'autismo proprio per questo, perché troviamo da una parte i casi molto gravi, molto pesanti da gestire, sia per la famiglia che per chi ci lavora, dall'altra parte abbiamo invece quelli ad alto funzionamento, che sono ragazzi assolutamente paragonabili a ragazzi normotipici, quindi che hanno una vita assolutamente autonoma e sono quelli che poi sentite che, non so, magari si laureano e magari hanno dei tratti autistici, ma che appunto sono appunto tratti autistici, cioè qui in mezzo, in tutto, questi sono i due opposti, in mezzo c'è veramente di tutto, quindi ogni ragazzo ha una sua peculiarità ed è un po' questo l'aspetto dell'autismo che a volte può anche disorientare, perché mentre il bambino o il ragazzo down è abbastanza identificabile, il bambino o il ragazzo autistico devi prima capire, devi prima valutarlo, come si suol dire. La cosa interessante è che noi ci mettiamo a questo punto a dover essere un po' più ascoltatori, cioè veramente ad ascoltare le persone, a guardarle per quello che sono e non subito in due secondi farci la nostra idea di quello, quello lì è strano, punto e basta, cioè nel senso ci fa capire, ci mette noi in una situazione anche insomma complicata ma necessaria per comprendere magari anche il resto del mondo, mi vorrebbe da dire, ma sarebbe da fare così con tutto. Noi ho letto in un'intervista che hai rilasciato nelle varie tue presentazioni che hai fatto, che a un certo punto tu parli anche del fatto che una famiglia con una ragazza o una ragazza appunto con l'ospetto dell'autismo diventa a tutti gli effetti una famiglia autistica, perché è tutta la famiglia poi che quindi deve collaborare e lavorare a questo, giusto? Esattamente così, la mia evidentemente è una provocazione, ma è chiaro che la famiglia deve adattarsi a quelle che sono le esigenze che ha il ragazzo o il bambino e queste esigenze a volte rischiano di far sì che la famiglia lo diventi in qualche maniera, che è dato proprio dalla gestione, dalla gestione stessa che tu hai quotidiana e dalla vita che fai insieme a questi ragazzi, per cui, e questo non vuol dire che vado in giro magari saltellando o toccando i muri o chiudendo cassetti in ripetizione, però è evidente che questa cosa ti condiziona in tutto quello che è la tua vita familiare e quindi banalmente se devi andare fuori a cena piuttosto che a mangiare una pizza devi in qualche maniera organizzarti e organizzare la famiglia in quella direzione. Se non bastasse appunto Mimmo e le sue parole all'interno del libro c'è anche un'introduzione al tuo libro scritta da un grande artista, giusto? Ma l'ho scoperto dopo che ero un grande artista, sinceramente io non avevo la più palle di idea, nel senso che non conoscevo il soggetto e mi è stato imposto da te che ho detto ma chi è sto Elio, sinceramente, ma chi è? Che vuole scrivere la prefazione? Siamo parlando di Elio e di Elio la storietese, giusto? Sì, sì, esatto, ma l'ho scoperto dopo, ribadisco, perché a parte Francesca Michelin io non seguo nessun altro, quindi devo dire che con Elio è nato tutto in modo naturale, per cui siccome ci conoscevamo, Elio anche lui ha una condizione che anche lui entra nelle famiglie autistiche e quindi è venuto in modo naturale, sì, va bene, te lo scrivo io una prefazione, tra l'altro molto bella, chi non l'ha ancora fatto lo compri il libro Appunto, questa è la domanda Solo per l'introduzione, il libro in sé, devo dire che non è niente di che, però l'introduzione è molto bella Beh, complimenti, è bravissimo a farlo citare al tuo libro, complimenti Mimo, no, dici invece dove possiamo trovarlo e appunto edito da chi No, vabbè, il libro adesso è già un anno che fuori e devo dire che in un anno mi ha dato soddisfazione perché oltre a fare le quattro presentazioni sono stato in due scuole a presentarlo e sono già, credo, intorno a 48-49 coppie vendute e devo dire che in un anno è una bella, sono bei numeri, sono bei numeri, sono bei numeri, secondo me Fabio Volo trema in questo momento, sì, sì, sappiamo che sono Beh, insomma, se l'hai detto tu, io non volevo, insomma, non volevo chiaramente mettervi, insomma, però comunque si trova su Amazon, su Amazon, basta digitare, mio figlio non sgusciato Mimo Pesce. Ok, ricordiamo anche l'associazione di cui parlavi prima di Novate, di cui c'è appunto il progetto del gruppo degli sgusciati? Sì, è importante perché il problema vero è che uno fa anche questo tipo di operazioni per parlare certamente dell'autismo, per parlare certamente di una esperienza che uno vive, ma lo fa anche in qualche maniera per sostenere, perché il problema di queste associazioni è proprio il sostenersi, come tutte le associazioni di volontariato, come lo è la tenda, e quindi andate su internet www, la tenda Onlus, di Novate Milanese, ODIVI, adesso si dice ODIVI, 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 esatto, di Novate Milanese e poi all'interno troverete il progetto di sgusciati e quant'altro. Perché la quotidianità delle associazioni è proprio la fatica che si fa, sostanzialmente è proprio quella di sostenersi, perché sono strutture private e quindi il lavoro quotidiano è quello proprio di andare alla ricerca di soldi, sostanzialmente soldi dalla mattina alla sera, questo è un po' il concerto di base. Tieni conto che comunque questa è una realtà che è presente da tanti tanti anni. Allora Mimmo, io ti ringrazio tantissimo davvero per le tue parole, grazie per aver scritto questo libro, perché ci puoi aiutare a capire meglio un tema che magari troppo spesso diamo un po' per scontato, un po' così, lo prendiamo un po' sotto gamma, invece grazie alle tue parole potremo capirne meglio. Io ti ringrazio tantissimo e adesso andiamo avanti con la musica, so che tu sei un grande appassionato, abbiamo alzato ancora di più il livello, mi spiace, te lo voglio dire, perché abbiamo Achille e Lauro adesso. Caspita, va bene? Ah però, va bene, mi lasciate bene. Ecco, va bene. Grazie mille Mimmo Pesce, buona giornata, grazie mille. Andiamo avanti con la musica, Achille Lauro qui su Cristal Radio a Good Morning Milano.